Impianti di riciclo dei rifiuti, 39 proposte, dibattito in Consiglio regionale dopo la comunicazione dell'assessore all'ambiente Monia Monni, obiettivo ridurre al 10% il conferimento dei rifiuti in discarica. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. L'assessore all'ambiente della regione toscana Monia Monni ha illustrato in Consiglio regionale gli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti di recupero e riciclo dei rifiuti, avviso scaduto il 31 marzo scorso. Sono in tutto 39 le proposte arrivate sui tavoli della regione, di cui 32 rispondenti ai requisiti. Cinque proposte, tra l'altro, riguardano anche la nostra provincia, tutte avanzate da Reti Ambiente e CPA. A Massarosa Reti Ambiente ha proposto di realizzare tre impianti, un impianto di digestione anaerobica e sfalci, uno di selezione meccanica di carta e cartone e uno di selezione meccanica di multimateriale. A Capalduri invece le proposte di Reti Ambiente sono due e riguardano la selezione meccanica e la sanificazione di prodotti assorbenti per la persona e un impianto di selezione meccanica e manuale di rifiuti tessili pre e post consumo. In generale la Giunta regionale ritiene che la realizzazione di questo tipo di impianti da affiancare alla raccolta differenziata sia indispensabile per raggiungere l'obiettivo di ridurre al 10% il conferimento dei rifiuti in discarica. Ovviamente ci sono state critiche da parte delle opposizioni ma sentiamo le interviste che abbiamo realizzato ai rappresentanti dei gruppi politici. Eteravia dà un giudizio molto positivo dell'operato della Giunta, dell'assessore Monni, perché in questo momento è un confronto trasparente che mette in campo le proposte di molte aziende, sono 17 quelle che si sono fatte vive con trasparenza, 39 progetti. Noi chiedevamo trasparenza a livello di condivisione delle pregettualità che emergono in Toscana. Auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti ma nel contempo diventa un piano industriale dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia ma che nel contempo vuole essere green ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. Sulle 45 riposte private, secondo me, qualità è una prima piada? Non compete, a mio avviso, al Consiglio regionale giudicarne la validità in termini tecnici. Bene che ci sia un tavolo tecnico, bene che venga fatta la VAS, serve politica, non serve solo tecnica, serve poi condivisione con i territori, serve stabilire il fabbisogno e serve soprattutto definire una sorta di perequazione fra i vari territori della Toscana perché tutti ne abbiano un beneficio e nessuno si faccia carico fondamentalmente in maniera esclusiva delle produzioni magari di rifiuti di altri territori ma che ci siano livelli di compensazione. Di aspetti positivi ce ne sono almeno due, nel metodo e anche nel merito. nel metodo perché siamo alla terza comunicazione dell'assessore in otto mesi, a dimostrazione che vuole completamente investire il Consiglio durante tutto il percorso e quindi costruire assieme uno strumento che sarà fondamentale per tutta la Toscana e per tutti i toscani. Nel merito della manifestazione di interesse che era stata pubblicata e al cui risultato avevamo richiesto una nuova comunicazione dell'assessore ha dato un risultato molto importante perché sono circa una quarantina le proposte impiantistiche che sono state fatte. Ora queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata che noi abbiamo richiesto come Consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anche essi noi avevamo chiesti per due motivi perché c'è un bilancio ambientale da rispettare e i rifiuti con più vanno in giro, vengono trasportati e più questo bilancio non è ambientalmente sostenibile e l'altro aspetto che dobbiamo evitare che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce. La comunicazione della Giunta è esattamente quello che ci aspettavamo, la Giunta non ha deciso dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti si arriva a fare una manifestazione di interessi e quindi chiedere ai privati perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema ma in realtà questo non è un buon procedimento, non è un buon procedimento a nostro avviso perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi leato si tracciò le treato sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti e anche in questo caso facendo questa manifestazione di interessi, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti e rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana e questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti addirittura vediamo che ci sono sei impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono due barra tre. Ma avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo due proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo ma oggi l'assessore torna a darci il resoconto non troppo dettagliato di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti, il che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia ma soprattutto c'è bisogno di impianti perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi, i comparti produttivi sono in difficoltà, i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti dell'Atari. Purtroppo soprattutto chi ci rimette di più sono le nuove generazioni perché continuiamo in Toscana a sotterrare ben il 34% dei rifiuti in discarica perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione, a una delle regioni più importanti del mondo, un piano dei rifiuti degno di questo nome. E non c'è nemmeno oggi il termine, cioè il tempo, entro il quale i nuovi impianti della cosiddetta economia circolare saranno pronti. Quindi è un giudizio negativo nonostante che ci siano state tante manifestazioni di interesse, tanti progetti presentati? Sulle singole manifestazioni di interesse presentate il nostro giudizio ci sarà al momento in cui oggi l'assessore lo ha confermato tutta la documentazione sarà messa nelle mani della commissione consigliare competente. Il giudizio è negativo nei confronti della Giunta e del Presidente Gianni perché a noi ci parlano di riservatezza, loro non perdono occasione per fare conferenze stampa al fianco di quelli che in realtà dovrebbero guidare perché la regione in materia dei rifiuti ha il compito di programmare e non certamente di cogestire la trasformazione dei rifiuti con le imprese. Ma questa è una comunicazione di sole sei pagine dove sostanzialmente descrivono in maniera sintetica queste 39 proposte, questi 39 progetti che imprese private hanno manifestato di voler costruire in regione toscana. Siamo ancora lontani da una definizione completa di quello che sarà il futuro della gestione dei rifiuti nella nostra regione. Una gestione dei rifiuti che naturalmente sconta, e questo l'ha detto anche l'assessore chiaramente, un gap infrastrutturale che è frutto di mancate scelte di decenni e che oggi attraverso una procedura che è anomala si cerca di colmare. Ed è anomala perché? Perché anziché partire da un dato che è quello dei fabbisogni territoriali e quindi di capire esattamente all'interno dei singoli territori qual è la capacità e quindi la necessità di smaltire, oggi si parte da una logica diversa, si chiede agli investitori sostanzialmente di risolvere il problema. Ecco, questo è un percorso che ad oggi è stato gestito sostanzialmente dalla Giunta, oggi noi invece crediamo che questo confronto e questo approfondimento debba ritornare al Consiglio, debba ritornare oggetto di approfondimenti nelle commissioni consigliari, soprattutto perché è indispensabile un coinvolgimento dei territori. Però innovazione e pianistica di nuovo modello sembra esserci e ci sono anche gli interessi concreti di investitori, perché il risultato l'ha portato. Sicuramente questo favorisce sotto un certo aspetto lo sviluppo economico, quindi la possibilità di nuovi investimenti e di creare, magari si spera, anche sui territori, occasioni anche per posti di lavoro e innovazione. Questo è sicuramente un dato positivo perché significa che c'è un tessuto imprenditoriale che può investire in un settore che sicuramente oggi dà una prospettiva futura importante. Ciò non toglie che, faccio un esempio, noi abbiamo tre ambiti territoriali. Ad oggi gli ambiti territoriali definiscono i fabbisogni, quindi noi dobbiamo stare molto bene attenti a calibrare esattamente gli impianti dove c'è bisogno. Tanto per intendersi, è inutile fare 100 impianti sulla costa quando nel capoluogo e su Firenze ad oggi noi scontiamo la mancanza, primo tra tutti, di un termovalorizzatore, che sappiamo tutti quanti che tipo di decisione ha subito, però nella parte ferentina, sulla piana e sul capoluogo, è impensabile che non ci siano degli impianti adeguati e moderni. La valutazione del piano è negativa perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la Regione, soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia, ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia che è quello che tratta i rifiuti a valle. Quando, a nostro avviso, dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate, la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati. Mi riferisco ai gasificatori, ai pirrolizzatori, che comunque hanno emissioni di sostanze nocive e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. La soluzione quale doveva essere quella? La soluzione doveva essere quella di una concezione industriale diversa che non solo crei minori rifiuti ma che adotti soluzioni tecnologiche che ormai ci sono che producono rifiuti ecocompatibili e un'educazione al cittadino e alle aziende anche con incentivi di qualunque natura, compresi gli economici, per produrre meno rifiuti. Da aggiungere alle interviste che il capo gruppo di Forza Italia Marco Stella ha chiesto di poter discutere in aula sulla costituzione della cosiddetta multi-utility e vista la rilevanza e l'impatto del tema sulla vita dei cittadini e delle imprese ha annunciato che il suo gruppo parteciperà attivamente ai lavori della Commissione. Cambiamo argomento, presentato il programma della Maggiolata, la festa popolare che si svolge ogni maggio a Lucignano in provincia di Arezzo. Quattro date, domenica 22 maggio, martedì 24, in notturna, domenica 29, mercoledì 1 giugno ancora in notturna e un filo conduttore per i carri dei quattro rioni, l'arte contemporanea e in particolare l'opera di Jeff Koons, l'artista americano, icona del neopop. Sentiamo le interviste. Questo è un momento particolare per tutti, per tutta la comunità e quindi richiama al lavoro in questo caso perché c'è del lavoro da fare per creare le nostre opere d'arte perché tra l'altro quest'anno faremo delle nostre opere d'arte in omaggio ad altre opere d'arte del nostro famoso artista Jeff Koons. Questa è una festa che ormai, diciamo così, tra pochi anni festeggiamo il centennario, quindi crediamo di poter dare un contributo notevole con questa festa a tutta la nostra zona della Valdichiana dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico e anche rievocativo del passato. Quindi noi ce la mettiamo tutta, le contrade, l'associazione Maggiolata e ora a questo punto con un contributo notevole anche dal punto di vista delle istituzioni. Un'altra manifestazione, otto giorni di festa per le otto contrade di Torrita di Siena che domenica 29 maggio alle 16 si contenderanno nella Corsa dei Somari l'ambito drappo che quest'anno è stato dipinto da Salvatore Ferrante. Edizione speciale la 65esima per il Paglio dei Somari che si svolgerà dal 21 al 29 maggio abbandonando il tradizionale periodo della festa di San Giuseppe quando l'evento primaverile apriva la stagione ma che le restrizioni imposte dalla pandemia avrebbero condizionato. Sentiamo l'intervista a Iuri Cardini, presidente dell'associazione Sagra San Giuseppe. Il programma si svolge attraverso due fine settimana. Il programma ufficiale parte da questo sabato, questo sabato ci saranno le estrazioni delle contrade dopodiché, quindi l'ordine di sfilata, dopodiché avremo un programma concentrato sull'aspetto culinario e degli spettacoli di intrattenimento. Poi durante la settimana ci saranno alcuni spettacoli e esibizioni interne paesane che tendono a valorizzare un po' il collante, il legame che c'è tra le contrade e finiranno con il venerdì dove ogni contrada si ritirerà nel proprio territorio per fare quella che noi definiamo la scena propiziatoria ovvero il momento più alto di preparazione al palio. Il giorno dopo, il sabato, inizierà la prima delle grandi competizioni a cui Torrita tiene molto, ovvero la gara sempre fra contrade negli sbaglieratori e dei tamburini. Si va al giorno dopo, che è la domenica. La domenica si partirà con l'esibizione di tutte le contrade nella sfilata storica, noi la chiamiamo corteo storico che finirà alle ore 13 circa per poi riprendere il pomeriggio che invece è concentrato sul programma della corsa. Dalle 16 in poi si corre il palio e venga il migliore. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.